Ringrazio voi che ci avete seguito in diretta a Facebook o su Twitter o su Instagram, visto che se aspettiamo i giornali e i telegiornali italiani campacavallo, quindi grazie a voi, perché parte della rivoluzione che stiamo facendo è anche grazie alla rete, che infatti qualcuno in Europa vuole imbavagliare. Occhio, teniamo le orecchie aperte, il bavaglio su Facebook, le fake news, il diritto di cronaca, il copyright, stanno cercando un modo per imbavagliare noi e soprattutto voi, perché tornate a informarvi solo dalle radio ufficiali, le televisioni ufficiali, i giornaloni ufficiali alla Repubblica. Ecco, un bacione alla Repubblica e all'Espresso, che sono divertentissimi, sono divertentissimi, se non ci fossero bisognerebbe inventarli, ma grazie a voi, perché buona parte della rivoluzione stiamo facendo a costo zero, grazie alla vostra idea, alla vostra energia, alla vostra voglia di parlare, di condividere, di contagiare i vostri amici.